Ciao ragazzi, un nuovo video, oggi video top e flop della Becca Cosmetics Finalmente la Becca è arrivata in Italia, è arrivata online il 22 giugno Ma... il 22 giugno, sì, è arrivata online il 22 maggio Ma appunto arriverà in store l'1 giugno mi sembra Ed è questa la ragione per cui ho aspettato a fare questo video fino ad adesso Perché secondo me è un brand che non è per tutti Quindi dovete andare in store e dovete andare a sbucciare i prodotti Per vedere se veramente sono fatti per voi Ci sono dei prodotti che secondo me sono assolutamente dei prodotti top E dei prodotti che secondo me non sono fantastici insomma Quindi bando alle ciance, tra parentesi, voglio farvi sapere che il rossetto liquido che ho È il della color pop, nel colore Magic Wand L'altra settimana ho fatto un video di prime impressioni Una ragazza mi ha chiesto di indossarlo nel prossimo video Quindi eccomi qui che lo indosso così puoi vedere il colore Alessandra Se ti piace su di me, a me piace tantissimo Il colore che mi piace tantissimo Comunque bando alle ciance Iniziamo con i top e flop della Becca Il primo prodotto che sicuramente è il più famoso Tra tutti i prodotti Becca Tra tutti i prodotti Becca sono gli illuminanti Io ne ho due Ho il famosissimo Champagne Pop Che è appunto forse il più famoso Quello lì in collaborazione con Jaclyn Hill Che è appunto questo colore champagne Questo è lo swatch ragazze Non so se potete vederlo E ce l'ho anche ovviamente sul viso oggi Ma soprattutto quello che faccio io lo metto Sulle parti del corpo Quando sono un po' più abbronzata E l'altro colore che ho è Opal In una mini size Non ve lo posso far vedere semplicemente Perché è distrutto Allora iniziamo da dire una cosa Questi... Aspettate che vi faccio lo swatch di Opal Questo qui è lo swatch di Opal Non so se potete vederlo Ma è più rosato rispetto a Champagne Pop Champagne Pop lo uso di più quando sono abbronzata Opal lo uso di più quando sono Diciamo un po' più... Un po' più pallida Iniziamo dal dire una cosa Allora se... Questo è un ottimo prodotto È sicuramente uno dei prodotti migliori Della casa Becca Cosmetics Ma non è un prodotto per tutti Perché essendo un illuminante Accentuerà sicuramente i pori Quindi se avete tanti pori sul viso E non vi piace l'effetto Glowy sicuramente non è il prodotto per voi Costano 38 euro Che non è poco per un illuminante Secondo me questo non è un prodotto must Però è un prodotto Secondo me se siete amati del make up O se veramente amate l'illuminante È un prodotto che dovete avere nella vostra collezione Perché sono ottimi di qualità L'unica cosa che non mi piace di questo prodotto È che sono veramente veramente fragili La formulazione è molto molto cremosa Quando andate andrete appunto a swatcharli Sentirete appunto quanto è cremosa Ma se vi cadono una volta ragazze È finita Come vedete io non ho uno che è rotto Perché sono veramente veramente Prodotti fragili Quindi fate fate attenzione Se prendete appunto un illuminante Cercate di non farlo cadere Il prossimo prodotto è un bronzer Questi qui non so se in Italia arriveranno Ma spero onestamente di sì Questo nuovo prodotto Arrivato anche qui in Canada Forse un mese fa È appunto il bronzer Che si chiama Balla e bronzer La gente per cui mi piace questo prodotto E che consiglio È perché hanno una grande tonalità di colori Ovvero Se siete molto scure Troverete il bronzer perfetto per voi Perché ci sono un sacco di bronzer Mi sembra che in tutto siano 6 o 7 le tonalità Ma quelli scuri Sono veramente perfetti Per chi ha la pelle scura Perché hanno sotto Un sottotono rosso Molto scuro Molto intenso Quindi se siete belle scure di pelle Sarà perfetto per voi Ma anche se siete chiare come me Ovvero adesso io non sono super chiara Perché sono un po' abbronzata Ma sapete che sono Casper Questo qui è perfetto Questo qui è il primo colore Del colore più chiaro E questo è il colore che utilizzo Quando sono super palida Ragazze Se siete super super palide Questo è il colore per voi Non lo vedrete Perché sono un po' più abbronzata Quindi molto probabilmente Non si vedrà dallo swatch Ma è fantastico Si sfuma benissimo Il primo layer Ha i brillantini Perché ovviamente Essendo un prodotto Becca È un prodotto luminoso Però appena togliete Il primo layer Il secondo già praticamente Non ne ha più Quindi effetto un po' più Invece di brillantinoso Un effetto un po' più luminoso Però luminoso senza brillantini Spero che mi sono fatta capire Comunque mi piace veramente tanto Perché è uno dei pochi prodotti Della Becca Che secondo me Hanno incluso più carnagioni Tra tutti Quindi io questo Se arrivo in Italia Ve lo consiglio Se siete scure di pelle Secondo me troverete Il vostro bronzer preferito Perché i sottotoni Sono fantastici Ma anche se siete super chiare Io ve lo consiglio Ovviamente Arilai è un prodotto Becca Quindi è un prodotto luminoso Non matte Il prossimo prodotto Che ho provato È questo fondotinta Questo qui È il fondotinta Becca Aqua Luminous Perfecting Foundation È praticamente Il fondotinta A base A cosa della Becca Allora ragazzi Se vi piace Il full coverage No Questo non è il fondotinta Per voi Se vi piace L'effetto matte No Questo non è il fondotinta Per voi Se siete super chiari Di pelle No Questo non è il fondotinta Per voi Questa qui È la colorazione light Che forse è la seconda Colorazione più chiara E adesso vi faccio vedere Cioè Non so se potete vedere Quanto è scura Vi farò un close up Ma è veramente scurissima Io questo Lo utilizzo Solo quando ho L'auto abbronzante O quando appunto È estate Questo prodotto È un prodotto Che non sono Né una fan Svegatata Né non mi piace Ovvero Se a voi Piace l'effetto Di un fondotinta Super leggero Se non mi piace avere Il diciamo L'effetto Del fondotinta Sopra la pelle Questo è il fondotinta Per voi Perché è veramente Un fondotinta Super leggero A me questo piace Utilizzarlo Quando sono abbronzata E quando non metto 10 kg di fondotinta D'inverno Questo non lo utilizzo mai Semplicemente Perché è veramente Super super sheer La cosa che mi piace fare A me con questo fondotinta Certe volte È di mischiarlo Con altri fondotinta matte Quindi se magari Ho un fondotinta Super super matte Voglio che sia un po' più glowy Metto una o due gocce Di questo E veramente Il fondotinta Si trasforma E diventa Un po' più Dewy Quindi un po' più Luminoso Senza però essere Sheer Quindi in realtà Io questo fondotinta Non lo utilizzo Quasi mai da solo Lo utilizzo da solo Praticamente Quando vado Tipo in Sardegna In vacanza Tipo lo so che Quest'estate Quando sarò in Sardegna Magari la sera E non avrò voglia Di magari mettermi Il fondotinta Perché ovviamente D'estate Quando uno ha abbronzato Non ti vuoi mettere Un paltone Di fondotinta Questo è Il prodotto fantastico Però anche qui Se siete super super chiare La becca Non è per voi In generale Secondo me Dovrebbero Diciamo Allargare Il range Di colori Per le persone Super super chiare Perché Per le persone Super scure È una linea Fantastica Cioè se siete scure Di pelle Troverete veramente Il vostro colore Ne sono certa Ma se siete chiare Ragazze Mi dispiace Accantonate i sogni Perché non troverete Praticamente quasi niente Che faccia per voi Poi Prossimo prodotto Che Sicuramente Questo consiglio Veramente a tutti Ed è uno dei miei Prodotti preferiti Della linea Sono i blush Della becca Sto parlando Dei blush Luminous blush Ah tra parentesi Il fondotinta costa 39 euro Quindi anche qui Costa però comunque È un prodotto Di alta profumeria Sephora Quindi non vi aspettate Che questo brand Sia economico Poi Come vi ho detto C'è il blush I blush Della becca Questi qui sono I blush luminosi Sono i miei preferiti Cioè io adesso qui Ho il colore Snapdragon Che come potete vedere È questo colore Super super intenso Sono veramente fantastici Sono super pigmentati Sono quei blush Che mi durano Tutto il giorno Sono fantastici I colori sono bellissimi Anche qui Essendo un blush luminoso Non è completamente matt Però non ha i brillantini Quindi a me piace tantissimo Questo colore Mi piace tantissimo D'estate È in assoluto Uno dei miei colori preferiti Quindi se volete Spendere un po' di più Sui blush Perché anche qui Costano mi sembra 34 euro Quindi non è Un blush economico Però se volete Farvi un regalino Secondo me Questo è un ottimo Prodotto della becca Poi Prossimo prodotto Che Devo dire che A me piace Però anche qui Non è un prodotto Per tutti È il correttore Acqua luminosa Questo qui Fa parte Della famiglia Del fondotinta Di acqua luminosa Quindi un correttore Molto sheer Adesso A me questo correttore Piace quando Non voglio avere Tanto make up E quindi magari Cosa faccio Metto il fondotinta In polvere Però ancora Le occhiaie Un pochino Quindi metto Un po' di questo E devo dire Che me le copre Non me le copre benissimo Ma me le copre Abbastanza Quindi anche qui È un correttore Che va a idratare La pelle È un correttore Che non vi dà Tanta tanta coprenza Quindi se a voi piacciono I correttori Che coprono No Questo non è Il prodotto Per voi Di nuovo È un prodotto Molto molto sheer Perché essendo Della linea Acqua luminosa È un prodotto Appunto sheer Però devo dire Che a me piace Quando voglio fare Il make up No make up Mi piace tantissimo Per questa ragione Ma no Se ho bisogno Di un correttore Che mi copre Le occhiaie Seriamente Questo non è E anche qui Questo qui È il colore Fair Quindi addirittura Più chiaro Del fondotinta Ma vi faccio vedere Anche qui È scuro Cioè Adesso magari Non sembrano scuro Perché sono un po' Più bronzata Però vi giuro Che quando sono Bianca bianca Questo non lo posso Utilizzare Perché comunque È un colore Abbastanza scuro Poi Ultimo prodotto Che in realtà Ho qui È questo qui Che è il primer Luminoso Della becca Questo qui È il becca Backlighting Priming Filter Come vedete Ne ho utilizzato Abbastanza Ed è praticamente Mi faccio lo swatch Magari qua Oddio Mi è uscito Tipo un litro Vabbè Comunque È questo Aspettate che Non sfumo È praticamente Questo Primer Luminoso Quindi Un primer Che vi dà Una sorta di Glow Prima che voi Applichiate Il fondotinta Allora Devo dire che A me questo prodotto Piace Non è un prodotto Must È un prodotto Che se a voi Piace avere La pelle Luminosa Glowy È un ottimo Prodotto Trovo che Veramente Renda Il fondotinta Che applicate Sopra Molto più Luminoso Molto più Diciamo Molto più Luminoso E quindi È un ottimo Prodotto Per quello Però anche qui Se avete i pori E non volete Che le altre Persone vedano i vostri pori Non è il prodotto Per voi Altra cosa che mi piace E magari quando sono Veramente tanto Abbronzata D'estate Quello che faccio Applico solo Questo prodotto E poi applico Magari un po' Di fondotinta In polvere E sono a posto E devo dire Che mi piace tantissimo Perché appunto Aumenta Diciamo L'intensità Della mia Abbronzatura Perché appunto Dando un po' Di glow Al mio viso Fa sì che appunto L'abbronzatura Risalti Però anche qui Non è un prodotto Né per tutti E non è un prodotto Che secondo me È un must È un ottimo prodotto Però anche qui Dipende dai vostri gusti Tra parentesi Mi sono dimenticata Di dirvi Che anche se avete La pelle oleosa Non so se consigliarvi I prodotti Becca Perché Per esempio Questo qui Il fondotinta O anche il primer Sono prodotti luminosi Quindi sono prodotti Che già vi danno Una sorta di glow Se siete Super 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 oleose Non so se l'effetto Vi potrebbe piacere Quindi Prendete voi la decisione Io vi sto dicendo Tutti i pro E tutti i contro Del brand Quindi spero Di esservi stata utile Ora passiamo Ad alcuni prodotti Che ho comprato Che però Ho già restituito E quindi non ho con me E sono Vi metto qui la foto Perché in realtà Non ce li ho Perché la cosa fantastica Non so se in Italia Si possano restituire i prodotti Però qui in Canada E negli Stati Uniti Se comprate un prodotto E non vi piace Potete appunto andare a restituirlo Così non avete sprecato I vostri soldi Un prodotto che Secondo me Non vale La pena È il primer Questo qui Viola Ovvero Il primer Viola Dà questo effetto Anche qui Un po' luminoso Però non trovo Né che mi riempie i pori E non trovo Che mi faccia neanche durare Il fondotinta Più a lungo Quindi onestamente Spendere anche qui 40 euro Non so quanto costi 34 euro Per un prodotto Che onestamente Non trovo Che faccia Niente di che Mi sembra onestamente Inutile Quindi Quello l'ho Diciamo Portato via Altro prodotto Con cui mi sono trovata Veramente Veramente male È la cipria In polvere Si chiama Blurring Powder Something Anche qui Metto la foto Non mi piace Perché è scurissima Ovvero L'avevo comprata Questo inverno Perché appunto La becca era uscita Con questa cipria Io sono amante Delle cipre in polvere E diciamo Appena escono Voglio provarle tutte Perché voglio appunto Trovare la cipria migliore E maledizione a me Praticamente L'ho presa E L'ho messa sotto Praticamente Alle mie Le cipre Quelle lì In polvere Di solito Le utilizzo Per il baking Per il mio correttore Praticamente L'ho messa E praticamente Mi è venuto Tipo un triangolo Arancione Perché È veramente Veramente Scura Cioè Secondo me Non è una cipria Top E non ho neanche notato Che mi dà Il stesso effetto Della cipria Della Laura Mercier O L'effetto Del Di quella Della Cover FX Che mi piace tantissimo E inoltre Il colore Era super Super Un fail Perché anche se dicono Che è un colore universale Secondo me Non è assolutamente Un colore universale Quindi Anche qui Andate in negozio Swatchatela In base Allo vostro colore di pelle Però secondo me In commercio Ci sono Cipre Che sono 150.000 volte meglio Quindi io non ve la consiglio E poi un altro prodotto Che avevo Però anche qui Ho riconsegnato E non perché Non siano ottimi Di qualità Sono le palette Queste qui Ovvero La qualità La qualità Dei ombretti È fantastica Sono veramente Burrosi Cremosi Sfumabili Però i colori Sono molto banali Ovvero Quando li ho comprati Li avevo comprati Per appunto testare La qualità E sì La qualità è ottima Ma onestamente Ho nella mia collezione Makeup 150 palette Con quei colori Sono colori Che veramente Ho in altre 10.000 palette Non sono colori unici La qualità È ottima Voglio assolutamente Stressare Che la qualità È ottima Secondo me Sono i colori Che sono un po' Un po' Diciamo Banali E noiosi E quindi Anche qui Li ho restituiti Semplicemente Perché Non li stavo usando E onestamente Spendere 36 euro Per una palette Che poi non uso Mi sembra un po' Inutile Quindi L'ho restituita Ovviamente Si tratta Di opinioni Personali Secondo me Ogni prodotto Bisogna Prendere E provarlo Andare Comunque A sbocciarlo In negozio Ed è questa La ragione Per cui Ho aspettato Di pubblicare Questo video Più vicino All'uscita Perché Secondo me Dovete andare E testare I prodotti In negozio Perché Come vi ripeto Non è un brand Per tutti Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Vi sia stato utile E se così Sato Mettete un mi piace E iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Alla prossima Ciao